Ciao Teo Caldiroli, grazie per il Prime. Allora, ci siamo. Partiamo dal presupposto che, così come voi, sono partito completamente da zero, ok? Vi ho fatto vedere attraverso la live Twitch dell'altra sera, attraverso il mio canale YouTube, come sono partito al lancio della web app. Vale a dire, con niente in mano, perché avevo semplicemente quei 15-20 mila crediti ottenuti dai pack benvenuto. I pack benvenuto erano un pacchetto con oggetti stadio, tutti scartati, e già lì sono solo 5-6k, e poi 4 pacchetti giocatori 80+, che vi ho spiegato come gestire nella rivendita. Ero arrivato a circa 15-20 mila crediti, ok? Ora, se vedete la mia lista trasferimenti, vedrete una miriade di giocatori, differenti, alcuni anche molto ripetuti. Allora, togliamo un attimo questi due bronzini, che sono quelli del metodo pack bronzo, che non ci interessa. Alcuni anche ripetuti, perché vuol dire che, dal momento in cui trovo un giocatore che, secondo me, funziona per farci compravendita, dovete continuare a puntare su quello. Se trovate un giocatore con cui riuscite a fare 2-300 crediti a carta per partire, o anche 100-150 crediti a carta per partire, è un giocatore su cui dovete continuare a puntare. È inutile andare a cercarsene altri, ok? Qua vedete una serie di giocatori, tutti frutto di o aste o sniping, su o nome preciso, o su filtri, ok? Vi spiego quali sono i filtri che ho utilizzato io, e in che modo sono andato a cercarmeli. Allora, ovviamente, dal momento in cui partiamo, che abbiamo 15-20k, non possiamo puntare a carta 1-300, 1-400, 1-500 crediti, per il semplice motivo che, se abbiamo 15k, riusciremo a comprare solo 10 carte. Nello start iniziale dovete puntare a fare pochi crediti con tantissime carte, ed è per questo che la mia lista è praticamente quasi sempre piena dallo start della web app, perché il mio obiettivo non è trovare un fantomatico giocatore impossibile con cui fare 2-3k a card, nonostante ne abbia il budget, bensì è quello di fare pochi crediti con tante card, e che ogni listata, quindi ogni volta che io metto in vendita le card, entro l'ora successiva ne venda il più possibile, ok? I 51 oggetti che vedete qua e i 28 in vendita, sono frutto delle aste o dello sniping fatto stamattina, nell'arco di 10 minuti, quindi 10 minuti di compravendita per fare 50 vendite. L'ora dopo, se avete tempo, ripetete quei 10 minuti di aste o sniping per riavere nuovamente 50 oggetti in vendita, che verranno venduti nell'ora successiva, ok? Ora, come partire? Dovete trovare dei filtri che funzionano. In quale modo trovo filtri perché funzionano? Stiamo testando. Noi sappiamo che al momento, grazie alle SBC che ci sono attive, riusciamo a vendere bene determinate tipologie di carte, che possono essere sia oro comuni sia oro rari. Se avete un budget di 10, 20, 30 mila crediti, meglio gli oro comuni, da 40, 50, 60k in su potete cominciare anche con le carte oro rare, semplicemente perché raddoppia il prezzo della carta, ok? E andate a testare questi ruoli per vedere il prezzo di vendita delle card. Sappiamo che il difensore centrale è sempre una carta importante, ok? Andiamo a vedere qual è il prezzo di vendita di minimo di un ipotetico difensore centrale brasiliano oro comune, ok? Vediamo che in questo momento le card sono praticamente a scarto, quindi questo filtro qua non funziona, ok? Andiamo a vedere giocatori francesi. Giocatori francesi si vendono a un minuto di scadenza a 400 crediti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete il budget minimo 300, scusate, se avete il budget minimo 10, 20, 30k, potete farvi aste a non finire su giocatori difensori centrali, francesi qualsiasi a 300 crediti per andare a rivendere a 400 crediti. Ovviamente, lavorate sulla massa, ok? Se avete 30.000 crediti, comprate 100 card a 300, rivendete 100 card a 400, avete 60, anzi 80 crediti netti a carta. Su 100 carte sono 8.000 crediti. Quindi diventate dopo un'ora un budget di 38.000, ok? E così via, ogni ora il più possibile per aumentare il vostro budget. Ora, questo è un filtro che vi dà la possibilità di fare 80 crediti a carta. Oppure, testate un altro filtro. Vediamo se i tedeschi ci danno più fortuna. Vedete che i tedeschi ci danno più fortuna. Per quale motivo? Ragioniamo un attimo. Per quale motivo i tedeschi danno più fortuna? Giovedì sera è uscita la sfida in Conti Principali, che richiede un giocatore inglese, un giocatore tedesco. Cosa vuol dire? Vuol dire che i tedeschi e gli inglesi oggi, così come domani, così come ieri, si possono utilizzare con molta più facilità per andare a farci compravendita. Vedete che a 500 si sniperano, a 550 si vendono facile con scadenza 40 minuti. Quindi, cosa vuol dire? Mi vado a fare aste. Aste sui tedeschi. In questo caso, riuscendo magari a comprarli, e vanno bene difensori centrali qualsiasi, ok? Difensori centrali qualsiasi. Posso comprare a 400, rivendere a 550, posso anche comprare a 450 e provare a rivendere a 600. In questo caso, in questo caso, una vendita a 600, con acquisto a 450, comporta che io guadagni 120 crediti a carta. E anche qui, dobbiamo lavorare sulla massa, sulla massa. Quindi, 120 crediti per 100 carte e il limite massimo di card che possiamo mettere in vendita per la lista di trasferimenti sono 11.200 crediti in in un'ora. Perché la listata dura un'ora. Entro un'ora cerchiamo di vendere 100 card. Quindi sono 11.000 crediti di profitto. E il vostro budget da 40k diventa 50k poco dopo. Oppure, abbiamo detto l'Inghilterra è l'altra nazione interessante. Vedete che in questo caso gli inglesi si vendono a 450. Quindi, cosa potete fare? Anche qua, aste a 300, 350 e rivendere a 450, 500. Ok? Ora, questo è un filtro per poter fare compravendita per chi ha budget bassissimo. Ok? Il minimo. cioè partite da 15.000, 20.000, 30.000 dovete fare un metodo del genere. Se avete un budget leggermente superiore potete andare a cercare quei filtri che vi diano la possibilità di muovere card che costino magari anche 7, 8, 900 crediti. Per esempio, il filtro dei portieri brasiliani è un filtro interessante perché ha tre o quattro tipi di giocatori diversi che possono essere interessanti e vi dà la possibilità di guadagnare qualcosina in più. Vedete? Io senza complicazioni con facilità ho sniperato un Mateus che costa 600 e che riesco facilmente a vendere 800. in questo caso sono non più 80 non più 120 ma sono 160 crediti a card al netto delle tasse perché? Perché i giocatori oro comuni brasiliani portieri si vendono a 750 barra 800 crediti. Quindi in questo caso avendo un po' più budget avendo magari 50 60 mila crediti mi riempro la lista di questi portieri brasiliani comuni ed ecco che vado a fare 160 crediti a card su 100 carte oppure potremmo addirittura escludere il filtro oro comune e puntare semplicemente su card portiere brasiliano guardate in questo caso me ne è scappato uno raro che probabilmente si vende anche a 8-900 crediti su 650 sono circa 250 crediti di profit o addirittura potrebbero scapparvi fuori giocatori argento portieri argento brasiliani si vendono a 900 crediti 850 crediti quindi se io riuscissi a prendere via asta via compra ora a 650 700 vendo a 900 o vendo 850 anche qua è un 150 200 crediti di carta e se noi riuscissimo a trovare un filtro come questo che ha meno condizioni possibili vedete in questo caso avendo tolto il filtro oro e comune mi dà la possibilità di fare rapidamente un acquisto su varie tipologie di card perché più il filtro è largo più carte ho la possibilità di trovare in sniping o via asta ragazzi invio è semplicemente ho premuto sulla tastiera invio non ho fatto niente di più niente di meno che premere sulla tastiera invio se io faccio così faccio acquisto e sulla tastiera premo invio automaticamente lui mi fa ok quindi semplicemente si tratta di cliccare rapidamente sulla tastiera ok ora ovviamente questo è un filtro poi noi sappiamo che le carte oro rare hanno un utilizzo ancora più ampio vedete che i portieri ciao dario grazie per l'abbonamento regalato grazie mille complimenti a handy per aver vinto una sub e grazie a sono tutti di per il prime scrivete in chat punto schiamativo discord ora vedete che giocatori oro rari brasiliani si vendono a 1200 nel prossimo mettere un semplice filtro raro più portiere brasile si vendono a 1100 quindi cosa possiamo fare andiamo a fare guardate sniping su portiere raro e lo piazziamo a 1200 poi se dovesse capitarci un netto che è oro posso puntare a venderlo anche a 1300 ok quindi questo è un altro filtro che ci dà la possibilità anche qua di avere un ampio range di carte da sniperare o a stare ciao gabri ciao bone grazie per il prime scrivete in chat punto schiamativo discord per entrare nel canale ovviamente non soltanto brasile noi sappiamo che le nazioni più importanti in termini di in termini di nazioni sono brasile francia spagna tendenzialmente poi a volte c'è argentina a volte germania a volte italia dipende dei filtri possiamo andare a vedere se troviamo altri filtri differenti portiere raro francese non funziona perché perché le card costano 900 quindi a meno che non vi facciate aste a 700 è un filtro inutile un altro ruolo importante quest'anno è il centrocampista centrale ora centrocampista centrale francese abbiamo a 1200 a 1200 di minimo compraora tolesso coquelin rabiot e magari qualcos'altro e a 1100 abbiamo qualcosa coquelin vediamo se a 1300 si vendono a 1300 si vendono con difficoltà quindi l'obiettivo di vendita è 1200 ok quindi noi possiamo andare a farci o sniping semplice nudo e crudo vedete a massimo 1000 è capitato un rongier che costa 900 che oltretutto si vende anche a 1300 1400 oppure possiamo farci le aste ok guendosi è un giocatore che potenzialmente possiamo considerare anche non dico semi gameplay ma per uno starter team iniziale quindi possiamo puntare a venderlo anche a 1300 1400 non soltanto 1100 perché è un giocatore utilizzabile ok al sia per l'SBC sia per il gameplay ora qualcuno solleva la questione del 38 minuti di asta vi spiego come ovviare a questo problema ok se voi fate una ricerca di carte senza mettere filtri prezzo come vedete 0 qua 0 qua 0 qua 0 qua trovate tutte le card in vendita a a scadenza 30 secondi quindi potete andare avanti controllare quando c'è un giocatore a 950 1000 1100 potete fare un'asta ok quindi questo è il metodo per ovviare le aste a scadenza lunga oppure oppure un'altra cosa non puoi fare un comparaprezzo perché io non sto cercando un giocatore singolo bensì filtri generici ok oppure talvolta si è fortunati andando vedete che adesso faccio la ricerca massimo 1000 mi scappano fuori i card a 39 minuti nonostante in realtà non è reale il prezzo ok perché se esistono card a scadenza più breve vedete come questa che hanno scadenza più più veloce più vicina ok capita talvolta che giocando con i l'inizio prezzo o la fine prezzo il compra ora minimo compra ora massimo la web app si svegli e sblocchi anche le ricerche più recenti ok purtroppo la web app è buggata e non ci possiamo far niente ok poi dal momento in cui raggiungete un budget di compravendita di almeno 70 80 90 100 mila crediti potete andare a mixare sia i filtri di cui vi sto parlando e metterli assieme a determinate carte gameplay che potrebbero essere utili nei prossimi giorni ok ora vedete un po' di carte che io ho comprato qua a parte un netto che mi sono dimenticato di vendere ok ecco qua allora qua vedete uno due tre quattro giocatori differenti ok per quale motivo io ho scelto questi giocatori e perché li sto tenendo fermi prima cosa dovete comprare card del genere solo se avete appunto budget 70 80 90 mila crediti o più altrimenti non dovete farlo perché è inutile tenere fermi crediti in questo modo ok per quale motivo ho scelto Sterling Sterling è un giocatore che è già stato ufficializzato once to watch quindi ha la possibilità di uscire dai pacchetti settimana prossima perché è un giocatore che è ufficiale otv e potrebbe essere otv da venerdì 30 oltretutto è una card utile al gameplay come vi ho spiegato a inizio live le card più utili nel gameplay tenderanno a salire di prezzo man mano che si avvicina al giorno del rilascio di FIFA 23 Sterling pagato 17,7 ieri mattina quando ho iniziato a parlarvene e oggi già costa 22 Koundé ve ne ho parlato ieri sia in live sia in discord per abbonati Koundé è già passato da 24 a 31 mila ed è una card che continuerà a salire di prezzo poi qua vedete due carte economiche Sclotterback e Chouameni prima di comprarlo prima di andare a acquistare questi giocatori vi spiego il perché e vi spiego i rischi che abbiamo in queste due carte perché comprare una carta di Chouameni o Sclotterback non è la stessa cosa di comprare un Koundé o Sterling Koundé o Sterling sono giocatori che sicuramente saranno strausati e sono sicuramente carte che sono difficilmente spacchettabili perché hanno 1-9-84 1-9-86 nel frattempo ho venduto un altro giocatore probabilmente ok quindi questi due diciamo che il rischio per quanto mi riguarda è molto basso nel momento in cui devo comprare una carta over all 82 devo essere consapevole dei rischi allora una carta come Sclotterback è un giocatore che attualmente costa intorno ai 2k 2k e 2 credito più credito meno più o meno costa quello ok è un giocatore che si è trasferito quest'anno al Borussia Dortmund ed è una carta che ha buone probabilità di entrare a far parte della squadra once to watch ok essendo un giocatore che è utile agli starter team perché ha delle stats interessanti per uno starter team della Bundes essendo che potrebbe un'altra carta venduta intanto quando si aggiorna la web app così vuol dire che ho venduto una carta ok un'altra o che è scaduta un'asta ovviamente quindi una carta come Sclutterback è una carta che se dovesse entrare nei pacchetti come OTW la sua carta oro uscirebbe dai pack contestualmente nel momento in cui la gente deve andare a comprare Sclutterback per metterlo nello starter team e non si può permettere la carta OTW che magari costerà 30.000 crediti 20.000 crediti non lo so andrà a comprarsi la nostra carta oro che in quel momento è diventata più rara perché non è più disponibile nei pacchetti qual è il rischio che se Sclutterback non dovesse far parte della squadra once to watch sarà spacchettata di smisura e dimezzerà di prezzo questo è il rischio qualora invece entrasse nel team da tenere d'occhio allora potrebbe facilmente raddoppiare il suo prezzo altro discorso Chouameni Chouameni ha la stessa medesima caratteristica di Sclutterback la differenza è che probabilmente è più apprezzato e più utilizzato perché perché è francese non è tedesco perché è del Real Madrid e non è de Borussia ok quindi permette di linkare qualsiasi cosa da Rodrigo a Vinicius a Militao a Rudiger a Mendy a Courtois qualsiasi o a Camavinga qualsiasi giocatore del Real Madrid e qualsiasi giocatore francese oltretutto oltretutto è un giocatore che ha avuto un trasferimento importante nella stagione estiva ed è un giocatore che secondo me ha buone probabilità di uscire OTV lui così come Slutterback ha il rischio che se non dovesse uscire OTV quasi sicuramente perderà di prezzo perché è una carta valutazione 82 ed è una carta facilmente spacchettabile così come Slutterback chiaro che Chouameni ha un utilizzo molto più ampio rispetto a quello che ha Slutterback ciao Giovanni grazie per il Prime ben arrivato se invece dovesse uscire OTV Chouameni è una carta che facilmente può andare a toccare gli 8 9000 crediti quindi valutate bene il rischio di un investimento del genere valutate bene se vi conviene rischiare 1000 crediti su Slutterback o 2000 crediti su Chouameni o se avete un budget tale da permettervi di acquistare carte gameplay più grosse che Grazie a tutti